buongiorno buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video tutorial dove ti mostrerò l'arc body fly un esercizio fantastico da svolgere comodamente dove vuoi l'unica cosa di cui avrai bisogno sono due pesetti o due bottigliette d'acqua o due bottiglie d'acqua quindi puoi reperirlo dovunque vai dovunque sei ed è un esercizio ideale per rinforzare tutta la parte posteriore della schiena spalle e dorsali che è sempre molto difficile da allenare quando non siamo in palestra o se non abbiamo a disposizione un TRX o una Lube. Quindi ora andiamo a vedere nel dettaglio come si esegue l'arc body fly prendiamo i nostri due pesetti ci sdraiamo a panci in basso da questa posizione andiamo a posizionarci portando in alto bene le gambe distese bracci in fuori anch'esse belle distese all'altezza delle spalle da questa posizione scendiamo avvicinandoci al pavimento e salgo chiudendo le scapole giù e su in dinamico giù e su quindi cerco di tenere le braccia belle distese all'altezza delle spalle quando salgo vado a chiudere bene le scapole e ritorno ti faccio vedere l'esercizio anche girando un'altra angolazione così puoi percepire meglio la mia posizione da entrambi i lati ci posizioniamo a terra stringo i glutei distendo le gambe quindi sollevo le gambe braccia distese altezza delle spalle scendo e salgo cercando di andare bene a chiudere le scapole dietro la schiena chiuma e acqua su e giù su e giù sentirai un bellissimo lavoro in tutta la parte posteriore per iniziare ti consiglio di utilizzare un pesetto abbastanza leggero quindi mezzo chilo un chilo prova a fare 4,5 serie da 20,30 secondi con un minuto di recupero io ti aspetto nel prossimo video scrivi qui sotto tutti i tuoi commenti e stai con me